Premio Ravello, femmine di 4 anni al via sul doppio chilometro con partenza frenastri, impetuosa, gira bene alla corda e conduce nei confronti di Impulse Star, incadinò all'esterno, poi ancora Yuchela, Isaborz a largo, Isobar di Poggio, Iwaki e in coda Iqbaoesei che adete. Guida a ritmo sollecito impetuosa nei confronti di Impulse Star, Yuchela, Isaborz che risale a largo, incadinò che ha trovato posto in corda, poi gli altri. Riesce solo parzialmente a moderare l'andatura impetuosa dopo 650 metri di corsa mentre Isaborz giunge al lato di Impulse Star che precede sempre Yuchela. Mezzo miglio sul piede dell'1.17 scarso con avvio da fermo quindi andatura molto sollecita da parte di Impetuosa che dopo un chilometro è avvicinata da Isaborz, poi Impulse Star, Yuchela, Isobar di Poggio all'esterno. Insiste Isaborz che sopravanza Impetuosa all'apice della penultima curva ma non riesce a superare l'avversaria, si è spostata dalla corda Impulse Star. Passa ora Isaborz su Impetuosa in fase calante ma Impulse Star va subito all'attacco di Isaborz. La impegna con decisione, migliora anche Isobar di Poggio che avvicina Impetuosa mentre Impulse Star preme con decisione su Isaborz, poi Impetuosa e Isobar di Poggio. Ancora Ikea Dete che ha recuperato dalla retroguardia, siamo all'attacco della curva finale con Isaborz e Impulse Star in lotta davanti a Isobar di Poggio. Ikea Dete e Iwaki che migliora in terza ruota con Impulse Star che sta sopra avanzando Isaborz quando siamo ormai all'ingresso in retta d'arrivo con Impulse Star in vantaggio. Nei confronti di Isaborz, poi Iwaki che supera Isobar di Poggio. Impulse Star in vantaggio sta finendo forte a largo però Iwaki. Iwaki che scatta e nel finale prende chiaramente il sopravvento su Impulse Star e Isaborz. Vince Iwaki su Impulse Star e Isaborz. Corsa a parziali invertiti con un primo giro estremamente veloce nel quale la favorita Isaborz si è ritrovata scomodamente all'esterno di Impetuosa, poi è passata.